Bravo sei, in silenzio radio Vi ricordo il torneo, il campionato italiano di Warzone sulla mappa caldera che hanno organizzato i miei amici dell'Hydra eSport modalità quartetti con un monte premi di 1500 euro per lobby l'iscrizione richiederà 15 euro per player più 5 euro per ogni riserva aggiunta e poi tutto il funzionamento lo trovate nel commento in rilievo in più vi ricordo di iscrivervi al loro canale di Discord per tutte le informazioni anche per i prossimi tornei questo torneo partirà il 4 di aprile quindi avete ancora tempo se invece cercate ragazzi sconti, prezzi assurdi per i videogiochi, abbonamenti a prezzi stracciati vi ricordo la mia collaborazione con Eneba.com dove ho anche un codice sconto che vi dà un ulteriore 3% troverete tutto quanto sul loro sito dei prezzi veramente ad esempio su Playstation assurdi veramente dei prezzi vantaggiosissimi ma non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo con il TG Code innanzitutto ieri è arrivato o meglio ieri vi avevo anticipato l'arrivo della patch 1.29 di Cold War vi avevo detto che sarebbero arrivati nuovi contenuti man mano che erano stati trovati nella patch 1.28 la mappa WMD quindi la famosa mappa la nuova mappa che viene direttamente da Black Ops 1 rivisitata appunto per Cold War è disponibile ragazzi nel multiplayer da ieri sera l'aggiornamento vi spiego un po' pesa circa 800 MB su Playstation 5 su Playstation 4 invece pesa intorno ai 3 GB questo aggiornamento al momento ha introdotto soltanto la mappa WMD ma sono ancora tante le novità che erano stati trovati nella patch 1.28 come anche la mappa Jungle, una nuova SMG, una nuova arma corpo a corpo stranamente ancora non sono arrivati né i bundle né il nuovo operatore che vi avevo mostrato nelle settimane passate vi terrò aggiornati comunque al momento vi posso dare appunto questa notizia sui contenuti relativamente di ieri di Cold War quindi stanno tornando a puntare su questo gioco da capire se è una scelta voluta dal non successo definiamolo così di Vanguard oppure perché avevano proprio intenzione di supportare Cold War anche dopo l'uscita sinceramente lascio a voi la risposta inoltre una cosa interessante la mappa WMD è stata anche modificata in alcuni aspetti perché sono stati levati tutti i riferimenti all'Unione Sovietica vedete in questo caso ad esempio la bandiera russa che è stata rimossa e è stata sostituita da un altro logo questo al momento per quanto riguarda la mappa WMD non ho informazioni se verranno apportate altre modifiche all'interno appunto di Warzone o di Cold War e degli altri Call of Duty per richiami all'Unione Sovietica vi terrò aggiornati sentite bene che notizia molto curiosa arriva invece da Raven Software la Software House praticamente al momento responsabile di Warzone ha chiesto a tutta la community di lasciare il proprio feedback per costruire l'esperienza batterial definitiva della stagione 2 Reloaded quindi come dire praticamente ragazzi noi stiamo finendo di completare la Season 2 Reloaded che cosa quindi sarebbe proprio da dire ma come la state completando mancano pochi giorni ancora la state completando cioè la cosa è veramente incredibile cioè se danno anche la zappa si vedi però hanno voluto un feedback sulla community infatti la Raven chiede se ai giocatori piace l'attuale livello della salute nella modalità Bat Royale o se vorrebbe la salute che venga aumentata per abbinarla meglio alla modalità Vanguard Royale ovvero da 100 punti vita base a 150 punti vita base vi ricordo che con l'ultima pace infatti le vite sono differenti nella Bat Royale classica abbiamo 100 nella Vanguard Royale invece abbiamo 150 fatemi sapere voi che cosa ne pensate ieri comunque ho fatto un breve sondaggio la risposta è stata 62% su 1400 voti appunto che la vita deve essere aumentata nella via re normale il 38% dice no ma adesso vi do una curiosità veramente incredibile riportata da G-Code relativamente ad una cosa surreale successa con l'aggiornamento 1.53 facciamo un attimo il punto della situazione perché se ben vi ricordate nella patch 1.53 c'erano diverse modifiche alla meccanica del paracadutismo queste modifiche riguardano questi parametri ora quando il paracaduto è aperto andrà alla stessa velocità in avanti e di lato ora può essere aperta ad un'altezza dal suolo inferiore ora può essere aperto leggermente prima dopo essere usciti dal piano da cui ci si è buttati ed ora può essere tagliato quando è più vicino al suolo però è stato scoperto recentemente da diversi giocatori su reddit che le modifiche al sistema di paracadutismo non sono state apportate a tutti gli operatori del gioco infatti lo stesso G-Code ha voluto approfondire meglio la questione e ha confermato che effettivamente è presente un problema l'operatore Rose come potete vedere continua ad avere il vecchio sistema di paracadutismo l'operatore Anne invece è stato aggiornato con il nuovo sistema di paracadutismo quindi a quanto pare alcune schiene di Model Warfare 2019 di Cold War continuano ad utilizzare il vecchio sistema ovvero quello avente velocità 10.4 in avanti con il paracaduto aperto 6.4 con paracaduto aperto verso il lato destro o sinistro mentre il nuovo sistema permette di avere una velocità uguale in tutte le direzioni a 6.4 quindi questo rappresenta uno svantaggio perché la velocità elevata porta ad una minor distanza percorribile con il paracaduto aperto rispetto a chi usa un operatore che è attivo il nuovo sistema inoltre è stato notato che questo problema influenza anche l'apertura di un paracaduto ad un'altezza più bassa e sicuramente anche i cambiamenti apportati al paracaduto con la patch 1.53 ecco perché tante volte e quando appunto ci lamentiamo su Rebird che arriva di qualche istante prima l'avversario è perché sta utilizzando appunto una skin che non è stata fissata per quanto riguarda l'operatore per ora gli operatori che a quanto pare continuano ad utilizzare il vecchio sistema sono i seguenti Rose ovviamente skin più buggata della storia e Nikolai Naga, Weaver e Vright quindi i primi due per quanto riguarda MV gli altri tre per quanto riguarda Cold War tutti gli operatori invece di Vanguard funzionano al 100% del nuovo sistema quindi vi consiglio di non utilizzare questi operatori o skin di ESI fino a quando Raven non ne riconoscerà il problema e rilascerà un fix al riguardo notizia veramente molto curiosa per chiudere il TG Code relativamente ad MV2 perché continua ad aumentare l'hype relativamente appunto all'uscita di MV2 infatti l'insider MV2G è tornata ad alimentare l'hype per il nuovo titolo con un post che fa promettere molto bene tutto quello che ho intenzione di dire è aspettatevi l'inaspettato quindi continua sempre di più ad ai pari la community e sono veramente molto curioso di quello che vedremo appunto con il sequel di MV2G 2019 questo era tutto quello che volevo dire nel nuovo TG Code giornaliero vi aspetto ragazzi alle 13.30 in live piattaforma viola domani ovviamente il nuovo video ore 7 vi ricordo la mia collaborazione neba.com troverete i videogiochi del passato nuovi videogiochi abbonamenti a prezzi assurdi scontatissimi e noi invece ci vediamo domani ore 7 qui su youtube con un nuovo TG Code